Per non perderti nessun contenuto su questo canale ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, potevo iniziare il 2018 senza una delle mie cancrate? Assolutamente no! E di conseguenza quest'oggi ragazzi siamo qui con l'intervista doppia tra Pikachu e Mimikyu. È un video sperimentale, un'idea che mi è venuta vedendo altri video di questo genere con dei personaggi magari di videogiochi, di anime o robe del genere e ho pensato fosse un'idea carina. Non so quanto mi sia venuta bene questa clip, la sto registrando dopo aver editato. Spero che comunque il video sia godibile, se è così vi invito a lasciare un mi piace. Ma lascio la parola ai due intervistati che sicuramente saranno molto più convincenti di me nel farvi mettere un bel like. Vai col video. Chiedete like in maniera creativa. Raga, ascoltate me, il grande Pikachu. Se questo video raggiunge 500 like, vi porto l'intervista doppia tra me e il Rochette. Cioè non potete non mettere sti like. A parte di scherzi, lo faccio veramente. Eh, raga, non so, se questo video raggiunge 350 like vi esco il corpo. Nome? Pikachu. Mimikyu. Tipo? Eletro. Folletto Spettro. Da dove vieni? Dalla mitica e unica regione di canto. Prima Gen Forever, raga. Da, 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 da Lola. Non lo so da dove vengo. Mimikyu. Che cosa pensi di Pikachu? Ma è uno spocchioso, un infame, un saccente, crede di essere il centro del mondo, egocentrico. Insomma, fastidioso, orribile, noioso. Palloso. Potrei descriverlo in tanti modi. Pikachu, cosa pensi di Mimikyu? Bah, eh, sai, è brutto, è orribile, non si può vedere, poi poi mi copia spudolatamente, come potete anche vedere da questa intervista, eh, insomma. Bru, brutto, brutto. Mimikyu, fai il verso di Pikachu. Pikachu? Pikachu, fai il verso di Mimikyu. C-c-c-c-c-cazzare il verso di Mimikyu. Pensate un numero da 1 a 10 e ditelo. Sei. Arancia. Raccontate la più grande figura di merda della vostra vita. Eh, avessi fatto una figura di merda nella mia vita, figurati se ne ho fatta una. Hai perso contro uno Snaibi! Questa la tagliamo? Eh, ce ne sarebbero tante, fammi pensare. Ma una volta ero nel mio centro commerciale e niente, è arrivato uno che mi ha tirato sul mantello, l'ho ammazzato, solo che era il capitano. E poi mi hanno arrestato. Adesso un po' di domande tra bocchetto. Ash o Rosso? Beh, siccome Ash è il più forte allenatore del mondo, io dico assolutamente Ash. Rosso? Non li conosco. Serena o Lusinda? Proprio perché è il migliore allenatore del mondo e Ash, visto che è riuscito a fare la pucciata tattica, io direi Serena, assolutamente. Io voto Lusinda per andare contro sto stronzo qui a mio fianco, però anche qui io sulla figa alzo le mani, non so niente. Mega Evoluzioni o Mosse Zeta? Ma guarda, ne ho sconfitti talmente tanti di Mega Evoluzioni che direi Mosse Zeta perché fanno proprio schifo. Non ho mai visto una Mega Evoluzione, però siccome la mia Mosse Zeta è bellissima direi Mosse Zeta. Ahimai! Subito atti di bullismo? No, chi? Io? Io? Il divo della scuola? Io? Ma dai, figuriamoci. Sì, sì, ogni giorno mi bullizzano e mi picchiano e dicono che sono brutto, sempre, sempre, ogni giorno. Festeggiato Halloween? Nah, festa per poveracci, vaffanculo, io vado a mangiarmi il caviale, va. Io, per me ogni giorno è Halloween perché ho sempre un costume addosso, mi spiace. Ucciso qualcuno? Eh, ci ho provato, insomma, ci ho provato con un paio di Thundershock, però non sono andato in molto buon fine, ecco. Sì, sì, il capitano di prima. Pensato al suicidio? No, però ci ho fatto pensare agli altri. Sì, tante volte. Adesso passiamo alla parte importante del video. La bombi o la passi? Serena? Bombo, bombo. Passo, passo, chi cazzo è? Ash? Bombo assolutamente. Bombo anch'io. Spighetto? Eh, qua, qua passo, mi spiace. Bombo, bombo. Chris? Passo, passo. Chris si bomba, cazzo, Chris si bomba. Rocket 25. No, no, io questo lo passo, questo lo passo, che non mi ha messo nelle top 5, questo lo passo. Eh, dai, Luke lo si bomba, puoi non bombare Rocket. Sito di fiducia per i porno? Eh, direi Trainer Tia. Sì, sì, assolutamente Trainer Tia. Preghi il divino merda? Eh, beh, beh, certo, ma che domande. Sì, sì, assolutamente, non potrei fare di meno, insomma. Quanti iscritti ha Creepy in questo momento? Scusa, chi? Eh, non lo seguo. Chi ti sta sul cazzo su YouTube Italia? Ha voglia. Salutatevi come il cuore comanda. Va a fanculo, stronzo, cretino, brutto come il peccato, va a memori ammazzato, va. No, ma scusa, ciao, io sono una persona buona, ciao. Insultate Creepy in Freestyle. Yo, Creepy Stories, quando è che muori, fai video falsi e delle Insta Stories, non lo so, non so fare il Freestyle. Grande Creepy, hai fatto i video falsi e non lo dici, frate non capisci quello che carichi, forse è meglio che non ti bandi. Pessimo. Salutate il pubblico. Ciao raga, è bella, ricordate, stay Pikachu, stay strong. Ciao. Qualcuno, qualcuno, qualcuno mi vuole. Bene ragazzi, il video può dichiararsi concluso, io spero che comunque vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Chiedo Venia se non era perfetto, ma era un video sperimentale ed era un'idea carina secondo me da portare e da sviluppare in futuro. Perciò vi invito a rispondere nel sondaggio in alto a destra. Se volete insomma vedere altri video di questo genere, altre interviste doppie, magari Ash, Serena o cose simili, oppure se lascio perdere. Detto ciò ragazzi, vi invito anche a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e anche a quelle all'interno del canale come video che usciranno, video che non usciranno, robe del genere. E a premere la campanella per ricevere ogni giorno i dannatissimi feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Ho spostato il... Il tipo... Il tipo... Il tipo... Il tipo... Il tipo... Grazie a tutti.